Quarto compleanno per la Casa delle Farfalle. In un appartamento del palazzo che vedete alle mie spalle, cinque ragazze con disabilità mentale vivono la loro vita in autonomia con l'ausilio di alcuni operatori. Il progetto si basa sul trasformare persone con difficoltà mentali da oggetto di cura a soggetti attivi, capaci di vivere appieno la loro vita. Questa è la nostra camera. Quanto è importante investire in progetti di questo tipo e qual è il vantaggio di un appartamento, di una vita di comunità raccolta rispetto al grande centro? Questi progetti di vita indipendente sono importantissimi, nel senso che permettono a persone di poter vivere insieme, di essere autonome e per esempio in questi casi anche di uscire, di andare a lavorare. Naturalmente sono persone che hanno qualche difficoltà, qualche fragilità, quindi vanno poi seguite dal personale, dagli educatori, dalla nostra struttura aziendale che segue queste particolari fragilità. La cucina, lo stare insieme alla sera, come vivete la vostra giornata? Dal mattino si alzano, fanno colazione, puliscono il posto tavola, dopodiché vanno e sistemano il loro letto, si lavano. Poi ognuna di loro va a fare le attività, alcune di loro hanno una borsa lavoro, altre ragazze sono impegnate nell'attività della UNFAS che è l'associazione madre di questo progetto meraviglioso, dopodiché abbiamo tante attività, laboratori e il tempo libero vola. In mezzo a tante donne l'unico maschio di casa è Codino, un magnifico gatto a cui le ragazze sono affezionatissime. Il pet therapy è un modello molto importante a cui noi ci teniamo, sicché abbiamo adottato questo gatto e fa parte della famiglia. Questa qui è la mia stanza, d'ambola sola, all'assù c'è il mio compagno che mi è mancato. Tutte queste ragazze hanno una storia di vita particolare, è importante costruire dei percorsi personali per ciascuno di loro. Sì, è proprio quello che abbiamo fatto in questi quattro anni, perché oggi festeggiamo il quarto anno di questo meraviglioso progetto, un progetto che ANFAS ha sostenuto inizialmente e che poi con tante figure che ci hanno affiancato è partito. Ognuna di loro ha una storia particolare che è andata a identificarsi un po' poi nella loro vita qui nella casa. Ne dovrebbero nascere tantissime di queste case, abbiamo tante richieste, è che sicuramente è difficile e farlo bene comporta comunque tanto tempo. Questo è veramente un modello importantissimo per il nostro territorio perché ci permette di dare una progettualità importante a ragazze come loro e ragazze come loro che decidono veramente di investire anche sulla propria indipendenza. Questo è un progetto che sia come Comune che come ASL sicuramente sosterremo con tutte le nostre forze e sicuramente cercheremo di sensibilizzare anche tutti gli enti pubblici o privati a sostenere progetti come questo.